buonanotte a tutti ragazzi allora oggi questa sera anzi vi parlerò del metodo 478 del dottor andrew wayne se soffrite di insonnia questo è il uno dei migliori metodi e mi permetto di dirlo perché l'ho provato per riuscire a dormire in qualche minuto allora è molto molto semplice andiamo a vedere come fare portiamo la parte della lingua portiamo la lingua sulla parte alta appena sopra gli incisivi e cacciamo l'aria da tutta l'aria che abbiamo nei polmoni quindi in questa maniera una volta cacciata l'aria andiamo a inalare dal naso quindi respiriamo dal naso per quattro secondi dopodiché andremo a trattenere l'aria per sette secondi e poi butteremo fuori con la bocca sempre tenendo la lingua nella stessa posizione sopra gli incisivi per otto secondi vi faccio un esempio allora così allora questa operazione adesso ve la faccio rivedere va fatta per quattro volte dopodiché comincerete a sbadiare poi vedremo gli effetti anzi vedrete gli effetti perché magari aspetto qualche commento perché riuscirete a rilassarvi tantissimo e ad addormentarvi andiamo a rifare allora lingua sopra incisivi appena la parte sopra che che ecco qui che da appena finisco gli incisivi così respiriamo per quattro secondi teniamo l'aria per sette secondi tratteniamo il respiro per sette secondi e buttiamo via l'aria fuori respiriamo per otto secondi riproviamo allora riproviamo Allora, mi raccomando di tenere sempre in questa maniera la lingua durante tutti i 4, i 7 e gli 8 secondi e mi raccomando di rispettare i 4, i 7 e gli 8 secondi e non di cumulare il tempo, quindi 4, 7, 11, 8, 19. Questo metodo viene dagli Stati Uniti ed è uno tra i più famosi al mondo perché stavisco dando tantissimo successo. Io spero di esservi stato d'aiuto, con me ha funzionato, ha funzionato già dalla prima volta, spero quindi di poter ricevere qualche commento e soprattutto i vostri like se il video vi è stato utile soprattutto e magari ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao a tutti